Qui a Torino anche una presenza della delegazione da Somalia. Sì, sono proprio dalla Somalia e rappresento la Camera Commercio di Giubbalan e due altre compagnie che abbiamo fondato a Kismayo, che siamo 11 persone fondatori, 5 sono femmine e 6 sono maschi. Quindi avete una parità sia uomini che donne che lavorano per questi progetti di integrazione. Esatto, sono delle compagnie commerciali, una si chiama Dashet Construction and Trading Company e l'altra si chiama RAS Fishing Company, sede in Kismayo. Avete dei progetti che portate qui alla luce e attendete magari qualche partnership? Sì, abbiamo collaborazione e partnership con Torino e questi signori che sono con me, che lavorano con noi ormai abbiamo effettuato una certa fattoria, qui si fa la coltivazione di semi, una prova, poi continuiamo a continuare l'agricoltura e la pesca e così via. Sono i vostri settori più importanti? I nostri settori più importanti, siccome quella regione è piena di risorse economici, sia la pesca, sia l'agricoltura, l'avvento del bestiame, quindi ci sono delle possibilità enormi. Quindi abbiamo bisogno, io sono da tre anni che sono ritornata alla Somalia dopo la guerra civile, sono stati 22 anni in Inghilterra e adesso da tre anni lavoro con la Somalia. E con questi signori di Torino abbiamo una collaborazione enorme che avevano già cominciato dei lavori con noi. Senta, da questo meeting, questi tre giorni, ecco, quali sono le vostre aspettative? Le nostre aspettative saranno proprio perché siamo ottimisti. La Somalia è come un bambino che è nato adesso, che sta crescendo. Le donne della Somalia quindi anche attive proprio a livello di... Le donne Somalia a livello di oggi sono le donne più attive degli uomini e sono le donne che stanno creando di ricostruire la patria. E' la pace. E' la pace, sì. C'hanno un ruolo molto gigantesco in Somalia, le donne Somali. Hanno un bel ruolo significativo. C'hanno un bel ruolo in società civile, in parte del commercio, già le donne che sono proprio la forza che sta facendo in Somalia. Anche come business in Somalia. Anche come business, quindi anche in affari? Sì, in affari commerciali sono le donne più forti degli uomini. Quindi anche in camera di commercio? Sì, sì. Tutte le parti, sia economico, anche l'educazione. Le donne Somali stanno facendo proprio di rialzare e rieducare le donne Somali. Quindi non una società maschile, come si potrebbe pensare? Beh, sai, come dopo la guerra civile, la Somalia è stata proprio indietro per 22, 25 anni. Quindi le donne Somali si sono riunite per aiutare loro gente e per fare tutto quello che possono fare. Siano del commercio, dell'istudio e della sanità e tutte le parti necessarie.